Un uomo è morto investito da un treno TGV sul binario 1 della stazione di Collegno nel Torinese nella serata di sabato. Come scrive prima Chiavasso, il convoglio diretto a Milano è rimasto bloccato sui binari a partire dalle 20. Per liberare il corpo da sotto il convoglio sono intervenuti i vigili del fuoco. Le indagini sono affidate alla polizia ferroviaria. Per le modalità dell'accaduto si propende per un tragico incidente, anche se non esclusa alcune ipotesi. L'uomo era senza documenti addosso e per questo non è stato ancora identificato. Una ricostruzione più chiara sarà fatta a seguito delle indagini. La ricostruzione più chiara sarà fatta a seguito delle indagini.